Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mese video, sono Edoarda Gori Oggi faremo lo speciale 20 iscritti e avevo fatto lo speciale 15 iscritti Oggi subito il 20 ma non me lo aspettavo Allora ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace per la prossima volta che mi riprenda sulla batteria Oggi farò un brano dedicato ai Queen, una di SDC Due brani dedicati ai Queen, un brano dedicato a SDC ma poco, non tanto Farò 3 ritmi insegnati a me e farò una canzone dedicata a tutti Spero vi piaccia, una canzone a sorpresa, quella per voi, che avete subito Quegli altri e per qui ne farò Innuendo e Weaver Rokyu Poi per gli SDC, Make in Black Siamo due Siamo tre Tre brani farò di groove Siamo, beh, questi qua E nulla, poi non sono sorpresi che ho ritrovato Ciao ragazzi Adesso prendo le qualche Siete Stiamo la rama Iniziamo raga Iniziamo subito Prima e Weaver Rokyu Un rap è sempre così fino alla fine ma adesso passiamo a Innuendo ragazzi Che sembrano se mi viene Pronti, via Iniziamo 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 tre brani veloci che sto imparando io. Il primo è il 2 della pagina 10. Questo era il primo, adesso passiamo direttamente al secondo. Il secondo esattamente è questo, che è il primo della pagina 10. L'ultimo che è il numero 7 della pagina 9. Questo è il numero 7. Adesso farò una canzone per voi, che l'ho inventata io, non è di nessuno. Questa è la sorpresa. Adesso iniziamo, spero vi calvi. Iniziamo. La pagina 10. 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 questo ragazzi era lo speciale 20 iscritti io mi stupisco ogni giorno sempre di più a vedere questo magnifico canale che continua a crescere da ogni suo video ragazzi io vi adoro non so come come vi adoro adesso questo sarà un figo farò una musica cubana per concludere e poi non è difficile da farlo perché sposti e mette del rullante così e ti viene solo più così io vi adoro così in quattro sempre passiamo la musica grazie a tutti vi ringrazio ancora ragazzi per il traguardo raggiunto adesso siamo a 21 iscritti ma lo speciale è venuto in mente di fare 20 iscritti proprio oggi il 21 settembre concludiamo con questo spero che questo video vi sia calvato lasciate un bel like mi raccomando passate anche in descrizione passate anche sulla mia pagina di instagram che il mio nome è rebbi cipino 8 iscrivetevi se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao